Ciao ragazzi e ciao ragazze, nuovo video haul, scusate proprio le disabille come si suol dire, ma sono rientrata dal lavoro, sono andata a fare mille giri, siamo tornati a casa, ci siamo messi un'oretta fuori a prendere un pizzico di sole, infatti ho il costume, e mi sono buttata in casa a fare il video perché tra 20 minuti arriva l'omino delle pizze. Quindi, velocissimamente, video haul, video haul mix, c'è della roba in saldo, c'è della roba Avon, c'è della roba in bottega verde, insomma il tutto, per cui iniziamo immediatamente, vado random con tutto quello che ho da farvi vedere, spero di avere tutto a portata di mano, se no pace. Allora, parto immediatamente con questo, l'ho acquistato da Risparmio Casa per 7 euro spicci, perché ero incuriosita dal fatto che abbia la crema, diciamo, sul prodotto, sull'arnese, come si chiama, comunque, il Wilkinson Intuition Skin Dry, da utilizzare sotto la doccia per depilarsi. Questo è con Cocknut Milk and Almond Oil, ovvero olio di mandorle, direi, e latte di cocco. È fatto così, ha una testina sola, poi le testine eventualmente si possono comprare intercambiabili. Ok, e come potete vedere c'è tutta la cremina, che è un profumo pazzesco, per appunto farsi la depilazione sotto la doccia. Io ci proverò, vi farò sapere, io mi sono sempre depilata con schiuma e lametta, quindi credo che non avrò grossi problemi a utilizzare questo. L'ho provato, perché avevo visto tempo fa in un video di Miss Penny, che lei lo usa regolarmente, scusate il bordello, e si trova bene, per cui ho detto perché no. Vado avanti random, ho preso con i saldi da Piazza Italia, perché sono già iniziati in alcuni negozi, questo portafoglino qua carinissimo, sottilissimo, per soli 5 euro. L'ho preso perché, perché appunto, essendo così sottile, mi viene incomodo nelle pochette e nella borsa per il mare, perché il mio portafoglio di carpise è largo così e mi dà fastidio, mi occupa spazio. Questo invece è veramente super super sottile, per 5 euro mi sembrava anche carino, così con questo effetto jeans, per cui ho detto perché no, prendiamolo. Poi, non in saldo, ho preso da Shunfa questo toppino, che ho anche già rotto, nel che mi si è scucito, però vabbè, lo metterò a posto. È nero, con le stelle, ed è un toppino di quelli corti, che lascia a un velo la pancia scoperta. Molto carino, super scollato, per 7,90 euro. Mi piace col pantalone a vita alta. Sempre da Shunfa ho preso per 1,50 euro questa fascetta per i capelli nera, che utilizzerò per andare in piscina, quando vado alle bolle blu, per tirarmi sulla frangia. Sempre da Shunfa, al modica cifra di 4,99 euro, microtop, anche questo da mettere con il pantalone a vita alta, questa volta in bianco, perché ho detto perché no, un nero e un bianco. Poi, presi da Piazza Italia, col 50 di sconto, questi erano i famosi pantaloncini che volevo tempo fa, che poi non ho più trovato, pagati invece che 10,90 euro sui 5,50. Io ho preso nella fantasia militare, morbidissimi, proprio in tessuto, e nella fantasia bianca con i fiori tropicali, che ho già utilizzato per andare alle bolle blu. Bolle blu è un parco acquatico che c'è in Piemonte, dove io vado spesso, tanto è a 40 minuti da Genova, per cui si fa presto. Facciamo, hop, che lancio la roba. Poi, sempre random, sempre presi da Shunfa, semipermanenti, smalti semipermanenti. La marca è questa, che io non so se è conosciuta o meno, perché non mi intendo di semipermanenti. Ho fatto questo, che è il numero 017, che è un color, voi lo vedete strano lì, comunque è un salmone fluo, mi è durato 5 giorni, che per me è un miracolo, quindi mi è piaciuto un sacco. Peccato per invece il 066, che è tutto glitterato, per cui, voi vedete questa figaggine qua, però sulle unghie rimane trasparente e glitterato, a me è trasparente e glitterato, mi fa proprio pena, quindi devo trovare un altro modo per utilizzarlo. Poi, ho preso, e ve l'avevo già accennato, ben due Pupa Vamp Explosive Lashes, nuovo mascara Pupa, ora io vorrei capire perché non mette bene a fuoco, comunque questo. Fantastico, io lo amo alla follia, ne ho già messo in uso uno, ne ho già un altro di scorta, mi piace da morire, proprio voto 10. Andiamo avanti invece con Avon, sono velocissima. Gli acquistini fatti da Avon sono, allora, dalla volta precedente mancava il telomare, il telomare con il fenicottero, ora non sto qui ad aprirvelo, perché mi scoccia, poi non sono capace a rimetterlo in ordine, quindi, lo potete vedere tranquillamente sul sito di Avon, sul catalogo, comunque, telomare con cuscino incorporato, 16,90 euro, poi, dei prodottini invece ordinati, questa volta ho preso questo qua, che è il Simply Delicate Soothing, ovvero il detergente intimo da donna, questo qua per 300 ml, profumazione, non me la ricordo più, aloe vera e vitamina E, 4,90 euro, 4,50 euro, una cosa del genere, costicchia, però è valido. Poi ho preso un top coat della linea Mark, quindi classico trasparente, per appunto, aiuto per le unghie, da mettere dopo aver messo lo smalto, come chiusura, e poi ho preso il set estate, che era praticamente un mix di 4 prodotti a 8,50 euro in offerta, e i 4 prodotti erano la mia fantastica Care Purifying Cleansing, sono veramente impappinata oggi, allora, vabbè, il tonico all'acqua di rosa, parlamo come se magna, così facciamo prima, poi, la esfoliante per i piedi alla menta e aloe, io oggi ho proprio dei seri problemi di dislessia, fateci caso, poi, maschera per i piedi all'argilla alla lavanda, e questo qua, che è carinissimo, orchidea nea, nea, vedi che non ce la si fa, deve piovere, raga, no, Orchidea nera e Rosberry, Rosberry cos'è più? Sono i frutti rossi, non lo so, vabbè, forse le more, non mi ricordo, more, credo, sì, comunque bagno e schiuma, tutti e quattro i prodottini, appunto, 8,50 euro, e ultimo prodottino, che deve essere una figata fotonica, secondo me, pagato 5,90 euro, è il pulitore dei pennelli, ovvero, questo aggeggino qua, fichissimo nero, che serve per pulire i pennelli sotto l'acqua, quindi voi lo inserite qua nelle ditine, e pulite i pennelli con il vostro detergente, il vostro sapone, e poi da quest'altro lato ai fori, per poter inserire il pennello ad asciugare dopo che è stato lavato, fighissimo, quindi lo utilizzerò senz'altro, e appunto costa solo 5,80 euro, ora, cerco di far spazio, perché se no, non so dove mettere i prodotti che vi faccio vedere tra un secondo, allora, altre cose random che mi sono arrivate, mi sono arrivate le ciglia magnetiche da Wish, che avevo ordinato una serie infinita di ciglia magnetiche, sono arrivate sia quelle col doppio magnete, che quelle col magnete singolo, devo dire che io ultimamente ho rivalutato le ciglia normali con la colla, perché queste qua magnetiche mi fanno impazzire, mentre questo modello qua, che io sto usando spessissimo, ho preso anche lui da Wish, con la colla mi piace da matti, comunque, vai fermo, lì è crollato tutto, vi farò sapere, perché ai primi tempi mi trovavo benissimo con i magneti, adesso una mi viene bene, l'altro tipo sta così, quindi, non se puede, andiamo avanti, perché abbiamo ancora tutto Bottega Verde, Bottega Verde, sono andata alla Bottega Verde, perché avevo visto un video di Gnappetta, dove parlava di uno shampoo, un balsamo fantastico, che aveva provato, con keratina e cocco, al che ho detto, visto che i miei capelli sono una porcheria, anche se voi in video li vedete bellissimi, perché mi fate sempre i complimenti, i miei capelli sono super secchi, e si spezzano facilmente, eccetera, 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 quindi, ho detto, caspita, se funzionano sui suoi, che hanno subito un sacco di decolazioni, proprio come i miei, proviamoci, ed effettivamente Gnappa aveva ragione, grande Gnappa, hashtag, grande Gnappa, li ho presi, ho preso lo shampoo e il balsamo, con keratina e cocco, settificante, lisciante e nutritivo, favolosi, li ho utilizzati, come potete vedere, ho fatto i primi due lavaggi, per il momento, e li amo alla follia, quindi, saranno veramente, il toccasana della mia estate, perché questi capelli qui, da quando utilizzo questo shampoo, ormai sono una decina di giorni, sono morbidissimi, poi, sempre da Bottega Verde, vado avanti, tiro su, ho preso altre cosine, ho preso questo qua, che è l'Od de Toilette Aliris Bianco, preso perché avevo il 50 di sconto, su un ulteriore prodotto, e quindi ho detto, vabbè, prendiamo questo Aliris Bianco, che io adoro, mi piaceva morire, lo trovo buonissimo, è una roba, mi piace veramente, veramente un sacco, poi, altro prodottino in offerta, perché appunto, era lì della cassa, cavoli vari, ho preso il gel detergente viso, che non lava via la bronzatura, della linea Sol Argan, per tutti i tipi di pelle, appunto, con olio di argan, non l'ho ancora provato, perché, quelli non ho resistito, dovevo provarli, questa roba qua, ho detto, vabbè, aspetto il video, poi li uso, poi ho preso, la figata delle figate, che è questo qua, anche questo era in offerta, ora non ricordo la cifra, aspettate, che forse ce li ho qua, allora, shampoo e balsamo, allora, lo shampoo e il balsamo, costano un fottio, ma erano in offerta, quindi gli ho pagati, uno, 5,99, e l'altro, 3,99, lo shampoo 3,99, e il balsamo 5,99, l'iris bianco, pagato, 11,75, anziché, 23,49, se non erro, poi, il porta smalto in silicone, pagato, 1,99 euro in offerta, ne costerebbe 5, in realtà, e ve lo faccio vedere subito, che è questa figata, pazzesca, troppo carino, che voi vi mettete, sulle mani, così, ci piantate lo smalto dentro, così, e vi mettete lo smalto, cioè, è una roba fighissima, comunque, appunto, ho preso questo qua, poi, ho preso, gli elastici, questi qua, fatti a, a rondella, non perché siano particolarmente, validi sui miei capelli, quanto perché erano proprio bellini, questi, proprio questi acquisti, fatti per un senso logico, no, erano proprio carini, quindi li ho comprati, e direi, che con, bottega verde, termino qua, poi mi ha lasciato, un mare, di campioncini, che non ho ancora, neanche guardato, mi ha lasciato, un fondotinta, mi ha lasciato, una crema corpo, uno dei toilette, e una crema viso, quindi, un po' di tutto, la tesserina, per i bollini, estivi, stocchi, a schiattare, dal mal di gola, ah, e poi, mi ha lasciato, vabbè, tutte le offerte, ok, detto ciò, andiamo avanti, che se è fatta una certa, ultimi due prodottini, oggi sono andata, da Decathlon, perché? Perché ad agosto, andiamo in Croazia, nove giorni, e mi servivano, le scarpette, da scogli, che poi si utilizzano, anche in spiaggia, a quanto ho capito, perché le pietruzze, della Croazia, nei piedi fanno male, detto ciò, ho comprato quelle, che sono già, imboscate, quindi pace, non riesco a farvele vedere, e poi ho preso, due cose utili, ovvero, ho preso, questo qua, che è, praticamente, la borsettina, porta costume bagnato, cioè, è fighissima, perché appunto, è tutta di plastica, voi ci piazzate dentro, il costume bagnato, lo richiudete, e ve lo portate, a casa, o appunto, in hotel, dove cavolo dovete andare, troppo carino, e poi ho preso, questo qua, che è il classico, turbante, per appunto, asciugare i capelli, io questi, li amo, io vivo di questi, cioè, mi asciugo i capelli, solo con questi, ne ho tre a casa, e ho detto, va bene, prendo ancora uno, nuovo, da portarmi, in Croazia, perché è troppo carino, e asciuga da Dio, quindi, ottimo, questo costa 3,99, mi sembra, questa l'ho pagata, bella domanda, poco, non me lo ricordo più, ragazze, ho un vuoto, comunque poco, tipo un paio di euro, quindi niente di che, bene, detto ciò, io direi che a questo punto, vi saluto, perché, sta per arrivare la pizza, quindi, non posso star qua a ciarlare, chiedo scusa, per la faccia un po' sconvolta, ma, dopo una giornata di lavoro, il sole, il giro, cioè, sono sfatta, quindi, vi mando un bacione gigantesco, come sempre, condividete, spolliciate, facciamo crescere il canale, ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao!